Sono stati identificati e denunciati per lesioni aggravate dai carabinieri della compagnia di Catania i due 17 anni che sette giorni fa a bordo di uno scooter hanno aggredito un 23enne facendolo cadere con una spinta volontaria mentre stava percorrendo su un monopattino la pista ciclabile del lungomare Ognina. Il gesto è stato ripreso con un cellulare dal passeggero di un altro scooter e il video pubblicato su un social network è diventato in brevissimo tempo virale con centinaia di migliaia di visualizzazioni. Alla loro identificazione i militari coordinati dalla procura del Tribunale per i minorenni di Catania sono giunti anche grazie all'analisi di vari sistemi di videosorveglianza pubblica e privata della zona dell'aggressione e al monitoraggio della rete internet di numerosi profili social. Successive perquisizioni domiciliari hanno permesso ai carabinieri di trovare e sequestrare i capi d'abbigliamento il casco indossati dai due ragazzi la sera dell'episodio e lo scooter su quale viaggiavano che è la tesi dell'accusa era già stato parzialmente smontato e privato della corrozzeria bianca nel tentativo di ostacolarne l'individuazione e il riconoscimento.